E comincia stasera il fine settimana di Toscana, arcobaleno d'estate. 734 eventi su tutto il territorio regionale. Stasera la prima iniziativa con una cena sul Ponte di Mezzo a Pisa. Domani il tuffo collettivo su tutta la costa, le 17.30, quella diretta dell'evento nei nostri telegiornali. Il servizio di Jacopo Cecconi. C'è chi l'arcobaleno si è abituato addirittura a guardarlo dall'alto, ma per una volta forse anche Luca Parmitano inviderà un po' chi è rimasto a terra. L'astronauta italiano ha inviato via Twitter i suoi auguri per la festa più grande dell'estate toscana con tanto di foto aerea di Firenze. Immediata la risposta del presidente Enrico Rossi. Grazie per il saluto e per la foto della regione più bella. Per tutti noi sei semplicemente un mito. Stasera sul Ponte di Mezzo a Pisa la prima iniziativa delle 734 in programma durante tutto il fine settimana. Bocelli a Bolgheri, il Festival Pucciniano a Torre del Lago, la sfilata dei carri del Carnevale a Via Reggio e poi feste, aperture serali di monumenti, ce n'è per tutti i gusti, sia in città che nei piccoli centri. Basta consultare il sito www.arcobalenodestate.it. Momento clou, il maxituffo collettivo su tutta la costa toscana alle 17.30 di domani. Alle 19.30 poi aperitivo per tutti, compresi noi che saremo in diretta da Via Reggio con ospiti e curiosità, così come durante l'edizione delle 14.00.